Studio, prima di vedere il servizio abbiamo introdotto un argomento molto interessante con Andrea Maschio dell'associazione Trecasma, ricordiamo che stiamo parlando dei Sarawi e della situazione dei Sarawi, ecco un progetto di sensibilizzazione nelle scuole, quindi voi volete raccontare quello che sta accadendo e in particolare abbiamo parlato di questo muro della vergogna, di questo muro davanti al quale ci sono questi eminenti uomo, questo muro che crea divisione, ecco questa sensibilizzazione che andate a cercare nelle scuole. Sono già abbastanza perché mi ha citato i principali istituti superiori, ecco come volete approcciarvi a questi ragazzi per raccontare questa cosa, avete pensato a come farlo? Certo, allora innanzitutto mi preme sottolineare come sia Alessandro Graziadei, un giornalista che è membro dell'associazione ed è lui che porterà avanti in prima battuta il progetto didattico. Per avere il materiale per confrontarci con i ragazzi, già l'anno scorso noi avevamo con l'agenzia Parallelo Zero, che è un'agenzia fotogiornalistica, una delle più importanti in Europa se non nel mondo, siamo andati nei campi e abbiamo girato i filmati. Solo dopo il finanziamento del progetto abbiamo deciso di realizzare questo documentario. Ecco, questo sarà il mezzo con il quale noi entreremo nelle scuole. Un documentario appena uscito che rappresenta un po' tutta la storia dei Sarawi, dalla loro nascita nei campi profughi alla situazione attuale, la presenza del muro, il tutto però con i toni bassi, toni bassi sia da un punto di vista di quello che aveva portato la guerra, cioè la violenza non deve essere espressa in maniera troppo forte, sia da un punto di vista politico, cioè la politica non deve entrare all'interno di questo progetto. Quello che noi vogliamo, insieme a questo documentario, cercare di portare dai ragazzi è l'evidenza che esistono nel mondo delle divisioni drammatiche, anche in un popolo molto piccolo, ma penso che questa trasmissione porti evidenza tutti i giorni di come l'Africa sia piena di contraddizioni e di problematiche importanti, ma il mondo intero. Non solo l'Africa. Il mondo intero purtroppo, io ho cominciato in Peru a fare volontariato e mi sono reso conto che in tutto il mondo ci sono le stesse problematiche, purtroppo. Quello che noi cerchiamo di portare avanti è il significato della divisione, come risolvere la problematica della divisione, come abbattere i muri, tutti i muri, il muro del silenzio, il muro di gomma, il muro vero e proprio con le mine anti-uomo. Perché non ne parliamo? Perché abbiamo paura di parlarne? Perché abbiamo paura di andarlo a vedere? Chiedo solo all'autorizzazione di porgere un saluto in questa occasione a Rossella Urru, che purtroppo da due settimane, per la prima volta, abbiamo avuto un sequestro nei campi profughi. È notizia che è stata data al telegiornale due settimane fa, campi considerati sicuri al 2000%, per la prima volta hanno subito una violenza. Ovvero una cooperante italiana insieme a due spagnoli sono stati rapiti, non si sa da chi, il silenzio è d'obbligo in questo momento perché lo sciacallaggio mediatico è altissimo, però mi premerà in questo progetto didattico raccontare cosa vuol dire andare a fare cooperazione, quali possono essere i rischi, ma quali possono essere i vantaggi e l'importanza di continuare ad aiutare paesi che sono in difficoltà, ma che hanno tantissimo da darci. Perché una cosa che mi preme dire è quello che loro hanno dato a me fino adesso, io non sono riuscito a darlo a loro. Quale sarà il futuro per questa popolazione? C'è mosso qualcosa in questi ultimi periodi per... La speranza è il futuro di questa popolazione, sicuramente ci si sta muovendo molto, è da dieci anni che c'è la Sahara Marathon, un evento internazionale di volontariato per portare del turismo nei campi profughi e far conoscere il problema. Il Festival del Cinema è un'altra di questi eventi, e noi direttamente con un'associazione di Modena e i Modena City Ramblers stiamo organizzando un festival internazionale musicale per la prima settimana di marzo, sempre per portare più turismo possibile ai campi profughi. Purtroppo abbiamo avuto il Sì o comunque il Ni, Sni, chiamiamolo, di Giovanotti, di Luca Carboni, stiamo contattando e abbiamo contattato Manu Ciao, l'evento sta diventando molto grosso. Certo è che quello che è appena successo sta tagliando un po' le gambe a queste iniziative. Ecco perché questo evento singolo può causare un danno enorme ad un popolo che ha dell'informazione, la parte fondamentale per la rivendicazione dei propri diritti. Quindi tutto è legato un po' a come andrà questa vicenda. Sicuramente noi cooperanti che arrivano da tutto il mondo e in Italia, devo dire in particolar modo dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, ma anche dal Trentino, perché ricordo che sono due le associazioni che danno una mano a questo popolo, e ce la mettiamo tutta per continuare a proseguire e portare l'informazione più lontano possibile. Grazie, grazie Andrea. Allora ci hai raccontato tutto sulla tua associazione, ma soprattutto sui Saragui. In bocca al lupo continuate il vostro lavoro, la vostra opera di volontariato. Anche questa sera abbiamo avuto una testimonianza un po' diversa dalle altre, devo dire, perché di solito non siamo mai entrati così nel vivo, in una situazione anche politica così tesa e particolare. Quindi ci ha fatto piacere parlare anche di questa popolazione. Torniamo a dare spazio alle immagini. Ringrazio ancora una volta Andrea Maschio dell'Associazione Trecarsma. Grazie. Grazie mille, buonasera.